Noi stiamo discutendo, probabilmente non sarà una discussione che troverà una sintesi nel breve periodo, però siamo assolutamente consapevoli che si tratta di una questione molto importante che va ben valutata. Così Calogero Bono, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, uno dei riferimenti più importanti dell'opposizione di centrodestra in seno al comune di Sciacca. Ci sta dicendo che l'appello di Blu e Brucculeri a fornire eventuali elementi di implementazione della loro bozza entro novembre non verrà raccolto. Ribadisco che non è in questo momento al centro della nostra azione politica. Noi pensiamo a fatti contingenti che riguardano la nostra città, che riguardano i lavori consigliari. Ci sono molte cose che in questo momento sono in cantiere e che non riguardano solo l'attività amministrativa della giunta a termine. Ci sono molte vicende che invece si stanno giocando a Palermo, dove noi siamo presenti perché è il nostro governo, e spostiamo l'attenzione su queste questioni che riguardano invece la città. Bono che sulla proposta firmata dai consiglieri Blu e Brucculeri ammette che la coalizione ne sta parlando, valutando i pro e i contro. Noi tutti, compatti, abbiamo detto anche in Consiglio Comunale che la mozione di sfiducia è un atto amministrativo traumatico per la città, molto brutto, perché per certi versi ribalta quello che è stato a torto ragione un risultato elettorale. E per tale motivo abbiamo deciso di prenderci del tempo per valutare meglio quelli che possono essere i pro e i contro per la città, non tanto per gli interessi politici nostri. Non c'è dubbio che molte attività che sono in essere, ad esempio, dovrebbero essere amministrate da un commissario per il periodo che ci potrebbe separare dalle elezioni. Poi Calogero Bono liquida così la discussione in atto nel gruppo che amministra la città. Ci viene semplicemente da dire che non c'è nessuna novità in tale direzione, perché non è la prima volta che il centrosinistra in città è litigioso. La questione è invece che poi questa litigiosità e questi problemi si riverberano sull'attività amministrativa quotidiana, evidentemente non facendo stare sereno il sindaco nelle normali attività amministrative. Infine è così buono su Fabio Termine. C'è una sorta di corsa del sindaco ad accaparrarsi meriti su questioni che riguardano la nostra città, quindi opere importanti nella nostra città, per mettersi una stelletta che in alcuni frangenti non ha e non ce l'ha solo con il centrodestra come sulla questione Cansalamone o lavori per esempio della discarica, ma anche con lo stesso centrosinistra OPD accaparrandosi meriti sulla vicenda che riguarda lo stadio di Gurrera che invece appartengono ad altri.